Buongiorno a tutti, con il progetto Open Aquarium sarà possibile mantenere sotto controllo la vita dei nostri amici pesci, tartarughe, coralli e vegetazione. La cosa sorprendente è che tutti quelli che doneranno potranno decidere come verranno spesi i soldi e prendere parte alle strategie di progettazione e business tramite votazioni online sul nostro portale. Vorrei aiutare tutte quelle persone che vorrebbero comprare una centralina per acquari, ma non se la possono permettere perché è troppo costosa. Vorrei permettervi di comprare la centralina che vi serve al minor costo possibile. Per soddisfare tutti, la centralina sarà modulare, cioè composta da un pezzo principale che sarà possibile espandere collegandoci le espansioni. Ci sarà quindi il modulo di controllo a cui si potranno collegare tutte le sonde in modo modulare per leggere i valori di temperatura, pH, redox, GH, calcio, nitrati ecc. Il modulo per comandare le luci e le pompe, il modulo SMS e altri moduli che verranno progettati. Ci saranno un'applicazione per PC, tablet e cellulare per controllare l'attività dell'acquario anche online e mantenerla sotto controllo in tempo reale. PC e cellulare non sono necessari, ma permettono di osservare meglio tutte le informazioni. Grazie per l'ascolto.